Dopo il vento, il buio ed il freddo. A due giorni di distanza dalle maxiraffiche di vento che hanno fatto strage di alberature, mutilato la viabilità e procurato danni a diversi stabili, continuano gli strasciche della problematica a Pesaro sotto forma di interruzioni di energia elettrica. Ancora questa mattina vi erano abitazioni senza correnti in alcune periferie della città, in particolare nelle zone di Borgo Santa Maria di Ponte Valle Santa Veneranda dove l'Enel solo nella giornata odierna ha completato il ripristino di tutte le utenze a bassa tensione dopo il ripristino di quelle a media tensione. In mezzo un weekend senza corrente per tante periferie e in alcuni casi senza riscaldamento per diverse famiglie. Blackout ma anche danni in diverse strutture. Spicca il caso di Fiorenzuola di Focara dove è stato completamente scoperchiato il tetto dell'ex palazzo comunale col vento che ha spezzato le travi in legno facendo volare la copertura in lamiera che ha danneggiato antenne e tetti delle abitazioni. Disposta anche un'ordinanza comunale di divieto al transito pedonale nel borgo per i non residenti.